E' Yara Gambirasio, la verità, finalmente eccola qua la verità, Yara Gambirasio, la verità, eccola qua la verità, un'intera pagina dedicata a pubblicizzare questo libro, vedete? La vera storia del caso che ha sconvolto l'Italia, eccola qua, Yara, il DNA e altre verità, però c'è scritto qua la vera storia, la vera storia c'è scritto, ah cosa non si fa per vendere un libro, cosa non si fa, cosa non si fa, ma non è così che si fa però, E' Corriere della Sera, perché esiste Serafino Massoni che le analizza tutte queste situazioni, le analizza tutte come si deve, la vera storia, eccolo qua, non l'ho mica scritto io, la vera storia del caso che ha sconvolto l'Italia, la vera, vera storia, vediamo un po' questa locuzione, la vera storia, ci sono tre tipi di verità, ormai lo sanno tutti, lo sanno, Cioè la verità dei fatti, la verità dei fatti, la verità dei fatti vuol dire quello che è realmente accaduto, e di certo questo libretto qua non può parlare della verità dei fatti, benché ci sia scritto qua la vera storia del caso che ha sconvolto l'Italia, e questo libretto, libercolo, non può parlare dei fatti, perché ancora non si sa come si sono svolti i fatti, d'accordo? Quindi c'è la verità dei fatti, relativamente alla verità dei fatti, il grande filosofo partenopeo Gian Battista Vigo diceva, Verum est ipsum factum, cioè il vero è lo stesso fatto, il fatto non è vero, è vero il fatto, sì però va ricostruito il fatto, e va ricostruito, allora c'è la verità dei fatti, e di certo non sta qua la verità dei fatti, anche se c'è scritto la vera storia del caso che ha sconvolto l'Italia, non sta qua la verità dei fatti, la verità dei fatti la conoscono il signore che è imputato dall'assassinio, l'ha conosciuta la verità dei fatti la piccola Chiara Gambirasio, la conosce il Padre Eterno. Poi, oltre alla verità dei fatti, che ancora non è stata, non la conosciamo la verità dei fatti, capito? No, altro che vera storia del caso che ha sconvolto l'Italia, c'è la verità mass-mediatica, questa è la verità mass-mediatica, qua ci deve essere scritto la storia mass-mediatica del caso che ha sconvolto l'Italia, la verità mass-mediatica, c'è la raccolta di tutti gli articoli, probabilmente dei giornalisti del Corriere della Sera, che si sono dedicati al caso della piccola Chiara Gambirasio. E poi c'è la verità processuale, la verità processuale è la verità che salta fuori nel corso del dibattimento, primo grado, secondo grado, Suprema Corte di Cassazione, poi eventualmente rinvio per un nuovo grado di giudizio, quella è la verità giudiziaria. Qua in un libro, in un libro, in un libro, che è stato buttato fuori, scritto in fretta e furia, hanno raccolto tutti gli articoli, a parte sul Corriere della Sera, non lo so dove, ta 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 ta, eccolo qua per il lettore. Qua c'è la verità, c'è la verità mass-mediatica, la vera storia mass-mediatica del caso che ha sconvolto l'Italia. E poi un caso che ha sconvolto l'Italia, Corriere della Sera, ma io direi che i casi che sconvolgono l'Italia sono la disoccupazione galloppante. Questi sì sono casi che sconvolgono l'Italia, i giovani che non lavorano e che quindi non hanno manco i soldi per comprare il Corriere della Sera. Allora, questa, ecco cari amici, allora, ecco qua cari amici, eppure quelli che fanno questo marketing avrebbero dovuto studiare, studiare il filosofo Gian Battista Vico, che diceva verum est ipsum factum, e poi diceva ancora, verum et factum convertuntur, verum et factum convertuntur, cioè il vero converge nel fatto, il fatto converge nel vero, perché? Perché? Perché verum est ipsum factum. Allora, Corriere della Sera, ma ve lo sapete voi del Corriere della Sera? Che io, Serafino Massoni, sono un vostro azionista, sono azionista di RCS Media Group, ma che cosa aspettate? C'è il mio video, c'è il mio video, ve lo metto qua cari amici del Corriere della Sera, ve lo metto qua il mio video intitolato, Rezzoli, ora ci sono anch'io, ma che aspettate a nominarmi amministratore delegato di RCS Media Group? Io risolvo tutti i vostri problemi, perché siete messi male, molto male, ci sono sempre i vostri giornalisti che continuano a scrivere sul Corriere della Sera al Comitato dei Redattori, sono sempre in acitazione, ma ci penso io, ma nominatemi amministratore delegato, che cosa aspettate? Andate a vedere il video intitolato Rizzoli, ora ci sono anch'io, dove vi documento che sono un vostro azionista, fate una cosa saggia, nominatemi vostro amministratore delegato, e ci penso io a risolvere tutti gli infiniti problemi di Rizzoli RCS, infiniti problemi di cui parla in continuazione Diego Dallavalle, Diego Dallavalle, voi lo conoscete Diego Dallavalle? Beh cari amici qua mi fermo, eccolo qua, eccolo qua, poi dopo certo che il Corriere della Sera ha dei problemi economici, ecco qua, per il popolo la vera storia del caso che ha sconvolto l'Italia, ma come la vera storia, la storia mass-mediatica scritta dai giornalisti del Corriere della Sera, la storia mass-mediatica, diciamolo al popolo, no, diciamole queste cose al popolo, diciamogli anche, scriviamo qua sotto, che Gian Battista Vigo ha detto, verum est ipsum factum, ai costruttori di pubblicità, e scrivete qua, Gian Battista Vigo, due punti, aperte le vingolette, verum et factum con vertuntur, va bene cari amici, e ricordatevi che nel riassunto di questo video c'è il link che vi porta sul mio precedente video, intitolato Rizzoli, ora ci sono anch'io, capito? Voi di RCS Media Group, sbrigatevi, nominatevi vostro amministratore delegato, e così Diego della Valle sarà finalmente contento, e finirà di cliccarvi, ok? A tutti voi, tanti saluti da Serafino Massoni.